Grazie a tutti La capacità da questo punto di vista, dal punto di vista creativo eccetera, è proprio quello del pensiero trasversale, del pensiero diagonale, cioè della capacità di, come dicono gli americani, di pensare out of the box, andando fuori dalla scatola, quindi di strutturare un po' il contesto in cui devono operare e quindi trovare una interpretazione originale del messaggio, di quello che deve accadere a livello di comunicazione. La capacità di comunicazione Ritmica dei messaggi che ha ricevuto Grazie a tutti